Sarà Piero Marrese, attuale presidente della provincia di Matera, il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile. Un nome è quello di Marrese, circolato già alcune settimane fa, ma ufficializzato dopo il passo indietro del primario oculista Domenico Lacerenza, che di fatto aveva raccolto il malcontento di molti dem. La coalizione, formata da PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Socialisti, ha raggiunto l'intesa per candidare all'unanimità Marrese alla presidenza della regione Basilicata, un dialogo avviato a livello nazionale a Roma e poi condiviso durante un confronto domenica pomeriggio, a margine del quale Marrese ha risposto presente. La proposta hanno precisato in una nota congiunta, che resta aperta ad altre forze civiche dello stesso campo che vorranno aderire all'obiettivo di offrire ai cittadini della Basilicata un'alternativa di governo migliore rispetto a quella degli ultimi cinque anni. Marrese, 43 anni e sindaco di Montalbanoionico dal 2015, è presidente della provincia di Matera dal 2018. A pochi giorni dalla presentazione delle liste restano ancora tanti nodi da sciogliere. Marrese, nonostante la querel nazionale Conte Calenda vada in un'altra direzione, non ha escluso un'apertura d'azione rappresentata a livello regionale dall'ex presidente Marcello Pittella e a Basilicata, casa comune di Angelo Chiorazzo.